Non è la prima volta e speriamo non sia l'ultima. La sentenza di un tribunale riconosce i diritti calpestati di persone affette da autismo e loro familiari. Gli addetta e lavori ne hanno sicuramente sentito parlare. Il Consiglio di Stato della Regione Marche, ribaltando il giudizio del Tar, riconosce non solo terapie domiciliari specifiche con metodo ABA per un minore, ma sentenzia che le ore settimanali di assistenza siano almeno 25. Non un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia, ma l'ABA è riconosciuto come livello essenziale di assistenza. La sentenza fa ben sperare chi in campagna rivendica l'erogazione di più servizi senza i limiti della burocrazia, ce lo auguriamo. Purtroppo in passato altre leggi che prevedevano l'adozione dei LEA sono rimaste inapplicate perché in gioco entrano altri fattori, a partire dal libero convincimento del giudice, per cui ogni ricorso è una storia a sé, fino ai vincoli di bilancio e la sostenibilità economica. In buona sostanza, se tutte le persone rivendicassero quei diritti disattesi tramite un tribunale, le casse delle regioni potrebbero saltare per insufficienza di fondi. Questo non significa che la sentenza non sia positiva, tutt'altro come le altre che in passato hanno escluso per i minori un limite di età per l'assistenza. Se potesse in qualche modo la materia arrivare fino alla Corte Europea dei diritti dell'uomo avrebbe senz'altro un impatto ancora più efficace entrando nell'ordinamento al di sopra addirittura della Costituzione. Regione che va invece il rischio è di sentenza che trovi. La politica bene farebbe a prendere atto degli orientamenti. La legge campana sull'autismo è in stand by. Quanti sono i soggetti autistici? In regione campania è una domanda posta a più riprese e che non ha mai ricevuto risposte ufficiali. Mettere nero su bianco i numeri significa certificare anche le spese necessarie. Il banco potrebbe saltare. I diritti quelli no, non devono essere calpestati.